L'Iraq non si piega ad Al-Qaeda. Nel paese ripiombato nel caos si continua a combattere. Ancora scontri a Fallujah Ramadi tra l'esercito e i miliziani caedisti che di fatto controllano le due città. Un centinaio di miliziani sarebbero stati uccisi nelle ultime 48 ore. I capi tribali della roccaforte sunnita di Fallujah hanno annunciato di aver ripreso il controllo del centro e di essere pronti alla battaglia finale, mentre il premier shiit al-Maliki ribadisce che i gruppi vicino ad Al-Qaeda saranno sconfitti. All'origine degli scontri c'è lo smantellamento ai bordi della città di Ramadi dei principali accampamenti di gruppi di manifestanti sunniti contro il governo dell'attuale premier iracheno al-Maliki.